Musica Ben trovati a Sport News L'Italia torna a casa con un argento che vale oro dai campionati mondiali di tiro alla fune indoor in Svezia. Messisi in vista già nelle sfide tra i club con il team Fidgest e piazzatosi al quarto posto nella classifica finale, i tiratori che hanno vestito la maglia azzurra della nazionale sono riusciti a salire sul secondo gradino del podio, un risultato che segna la storia di questa disciplina. A conquistare il meritatissimo argento sono stati gli atleti Eugenio Gargiulo, campano della Lubrensis di Massa Lubrense, i fermani della SD Cobra Cristiano Ferrara, Stefano Marcaccio e Andrea Mignani, i marchigiani della Polisportiva Bellatores di Monte Urano, Rossano Biondi, Andrea Pasquini e Alex Petrini, il toscano della SD Black Bull di Camagliore Fabio Petrucci ed il marchigiano della SD Cavalcata dell'Assunta Manuel De Piazzi. Dopo il giro di Boa nessuno è riuscito nell'impresa di fermare l'Itas e Trentino di Fabio Soli, prima della classe con 17 vittorie su 18 partite giocati in regular season. Nell'ottavo turno di ritorno, in programma domani, 14 febbraio alle ore 20 e 30, sarà la Cucine Lube Civita Nova Volley nel remake della finale Scudetto 2022-23. Atleti marchigiani, grandi protagonisti nel primo special event del 2024 delle Bocce, disputatosi a Brescia. Le marche che ospiteranno il prossimo evento a San Buceto nel weekend 6 e 7 aprile sono tornate con grandi risultati. Il re canatese Mirko Savoretti si è confermato atleta top sconfiggendo tutti gli altri nazionali. Al trofeo bocciadoro le marche hanno ottenuto un ottimo piazzamento con il terzo posto di Davide Paolucci di Castelfidardo, piazzamenti sul podio anche nella parata femminile con il terzo posto di Chiara Gasperini del Lucrezia e nella parata Juniores con la medaglia di bronzo di Benedetta Necchi del San Cristoforo Fano. Bell Weekland per atleti marchigiani in trasferta in alcune gare abruzzesi. Nella serata di venerdì, successo della coppia della sportiva Castel di Lama, Alfredo Bacchetti e Emiliano Cinaglia che hanno trionfato a Campli nel Memorial e gli indimenticabili Ulisse Antonio Amedeo Valentini. Nella stessa gara, terzo posto di Cheti Crescenzi e Matteo Ciotti di Salaria. La stessa società con la terna composta da Cheti Crescenzi, Maurizio Crescenzi e Stefano Cosenza si è imposta nel trofeo Città di Mosciano. Nella stessa competizione, terzo posto per due formazioni marchigiane, Luca Capponi, Giorgio Cesaroni e Graziano Gattari di Tolentino ed Enrico Damiani, Mario Di Girolami e Ciriaco Tesei della San Benedettese. E con quest'ultima notizia sportiva è davvero tutto per questa edizione odierna del TG. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.